Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Questo, nonostante sia il nothing più scarso che mai stato prodotto, è anche quello che per me è andato meglio. Come mai? Beh, come sempre, cerco di spiegarvi tutte le ragioni, insieme a pregi e difetti, in questo video. Quindi buona visione. Come sempre, però prima di partire, io chiedo davvero il vostro supporto. Un supporto che è del tutto gratis. Basta davvero poco, un like a questo video, oppure un commento qui sotto, o anche l'iscrizione a questo canale, che non vi costa nulla, ma dà l'opportunità a me di continuare a portarvi recensioni in ambito tecnologico. E poi, e poi, vabbè, non dimenticatevi che se volete risparmiare diversi, soldi nell'acquisto dei vostri prodotti e della tecnologia, c'è anche il mio canale Telegram Dillitech, che seguo personalmente, che ha oltre 10.000 iscritti, e davvero, ci tengo parecchio, quindi mi raccomando, seguitelo, perché è anche quello un modo per supportare il mio lavoro. Ma insomma, iniziamo a parlare di Nothing 2A, e Nothing in realtà, in passato, l'ho criticata parecchio e modo abbastanza aspro, per il suo posizionamento, per la sua fascia di mercato e di prezzo, per quello che offriva. E non è una critica che risparmio, anche a questo prodotto, ma è molto meno importante, anche rispetto poi a quello che vi offro, perché alla fine le cose caratteristiche di questo e dei suoi passati prodotti sono rimaste anche qui. E mi riferisco, per esempio, al fatto che abbiamo un posteriore, che è rimasto trasparente, molto molto carino, anche nella mia versione bianca. Sono rimasti i led, anche se ora sono meno solo solo tre, ma alla fine offrono praticamente le stesse funzioni, come per esempio il timer o le indicazioni quando non vogliamo essere disturbati, insomma, un po' le solite cose. Ed è rimasta invariata anche l'idea della parte frontale, ovvero questo display piatto, con le cornici simmetriche ridotte su tutti e quattro i lati, molto iPhone, ma comunque, ripeto, tutto, tutto molto, molto gradevole. Ma essendo un modello economico rispetto al passato, beh, ci sono state anche delle rinunce, ma rinunce che non hanno inficiato in modo importante e significativo la sua usabilità come prodotto. Le rinunce sono, per esempio, il fatto che manca la ricarica wireless, ma non è fondamentale dal mio punto di vista. Rispetto al 2, senza la, manca per esempio il led rosso per la registrazione dei video, ma è accettabile. Abbiamo la plastica invece del vetro, ma anche qui, non solo è accettabile, ma anche più comodo e a lungo può andare, può essere anche migliore, evitando rotture e, diciamo, migliorerà comunque la sua resistenza, come è migliorata anche l'usabilità. Grazie a questa curvatura leggermente posteriore, grazie comunque alla plastica, che non è di chissà quale qualità, ma perché alla fine picchiettandolo si sente che è economico, però, per esempio, anche il peso è rimasto a meno di 190 grammi, quindi, nonostante le dimensioni, è un prodotto che si lascia usare in maniera molto, molto tranquilla. E poi, esteticamente, per carità, trovo ancora orrenda questa doppia fotocamera messa così, a modi un po' polifemo, veramente inguardabile dal mio punto di vista, però, per esempio, è molto bello il contrasto che abbiamo sui pulsanti, che sono neri, oppure questo contrasto col nero che è ripreso sia dalle fotocamere che dalla parte frontale della cornice, che comunque va a richiamare il bianco della plastica che arriva, insomma, è un terminale giocattoloso, ma alla fine è quasi simpatico, ecco, mi viene da dire questo, è un prodotto quasi simpatico nella sua bruttezza, è talmente brutto da essere bello, succede questo, a volte, con determinati prodotti, e questo fa parte di quella serie di prodotti che però, ripeto, nonostante le rinunce che ci sono rispetto, per esempio, al NoFing 2, al NoFing 1, addirittura, qua non sono rinunce significative, importanti, che rovinano, ripeto, l'esperienza di utilizzo. Non si rinuncia, infatti, comunque, a un po' di protezione, lui è IP54, il vetro frontale è un Gorilla Glass 5, davanti poi abbiamo sempre un sensore di impronte che funziona bene, la posizione è corretta, è veloce nello sblocco, quindi nulla da dire, non c'è l'espansione della memoria, abbiamo il 2SIM, però attenzione che manca l'SIM, ecco, questa è una delle mancanze, forse, significative. Rimanendo sulla parte frontale, devo dire che comunque è molto, molto buono, anche il display, anche qua, ci sono delle mancanze, non è eclatante, non è il miglior display in assoluto della categoria, ma va molto, molto bene. È un 6,7 pollici, un AMOLED a 120 Hz, con refresh variabile, un 29, quindi un formato abbastanza classico, la, diciamo, mancanza sua è che la luminosità di picco si ferma a 1100 nits massimi, 700 tipici, e sotto il sole, per dire, siamo a livelli di un poco M6 Pro, ci sono altri prodotti su questa stessa fascia di prezzo che vanno meglio, quindi con alcuni riflessi in giornate veramente assolate, bisognerà cercare un po' di ombra, poi il sensore di luminosità non è rapidissimo nel modificare le impostazioni, però, per esempio, l'atterratura dei colori è veramente molto buona, arriviamo comunque a 400 ppi, che, ripeto, è decisamente accettabile, il PWM dimming è a 2160 Hz, insomma, un pannello che rimane, dal mio punto di vista, decisamente, decisamente approvato, anche proprio per la sua estetica, mancano, per esempio, comunque le certificazioni classiche di Netflix HDR 10 Plus, ci sono naturalmente le We Divine L1, quindi si vede in alta risoluzione, ma ci sono, ecco, delle mancanze, come, per esempio, ci possono stare gli speaker, che è vero, sono austere, ma non sono potentissimi, in più, sono leggeramente sbilanciati verso il basso, e poi, c'è la solita vibrazione Nothing, che è rumorosa, anche se molto meno rispetto al 2, e tutto sommato, poi è secca e potente. Detto questo, però, in una decina di giorni, che lo sto utilizzando, si è dimostrato, poi, in soldoni, un telefono decisamente, decisamente, affidabile. Veramente un gran bel telefono, sotto il punto di vista dell'affidabilità, a 360 gradi, inteso come telefono vero e proprio, cioè, senza tutte queste, arzigogolature, senza tutti questi manierismi estetici, che ci sono, ma a parte il fatto che ci sono, si è dimostrato, ripeto, un telefono affidabile. Per esempio, c'è un sensore, o meglio, c'è, sì, proprio un sensore di prossimità fisico, che funziona perfettamente, preciso, ma è un problema, in chiamate, o utilizzando le app, come Telegram, o Whatsapp, per gli audio. Il reparto connessioni, poi, è ottimo, c'è un Wi-Fi 6, che è estremamente veloce, sia da vicino, che poi, tiene molto bene il segnale, anche alla distanza, non si disconnette subito, e rimane comunque navigabile. Ottimo, davvero, anche il segnale telefonico. Io l'ho utilizzato in 4G, 4G+, le velocità massime, sono tra le migliori, sulla sua fascia di prezzo, dei 300, 350 euro, è molto rapido, nei cambi cella, mai un vuoto di segnale, si è dimostrato, per esempio, più reattivo, confrontato con l'S24 Ultra. Perfetto anche il GPS, la bussola, anche qui, l'ho utilizzato spesso, in diverse situazioni, si immacchina anche a piedi, ed è sempre, sempre, stato perfetto, e poi affidabile, anche per l'autonomia. Un altro dei punti cardinei fondamentali, ecco, di quando si utilizza un telefono, la durata della batteria. Qui abbiamo una 5000 mAh, che si è dimostrata molto, molto costante nel suo utilizzo. Per esempio, con due ore e mezza di schermo, mediamente intenso, e quasi tutto in 4G, comunque avevo ancora un 60% di batteria residua. Un altro giorno, con altre due ore di utilizzo, questa volta un po' più rilassato, con un'app un po' più, diciamo, meno energivore, comunque avevo ancora un 60%, 57% di autonomia. Andiamo oltre due ore e mezza, qua tutti fatti in 4G, 4G+, in giro per la Francia. Comunque, con due ore e mezza, avevo ancora un 57% di autonomia residua, fino ad un ultimo giorno di utilizzo super stressante, anche qui per il 90% fatto in 4G, con 5 ore di schermo, però avevo ancora il 35% di batteria residua, quindi davvero tutta l'autonomia del caso. E poi è vero, manca la ricarica wireless, ma comunque abbiamo una ricarica cablata a 45 Watt, che è paragonabile a quella di un S24 Ultra, quindi più che accettabile. Quindi un telefono che è un telefono vero e proprio, e che va dannatamente bene per tutte le cose che deve fare un telefono, vero, chiamate, autonomia, e insomma tutto quello, ripeto, connessioni che deve fare realmente un telefono. quello sul quale va un po' meno bene, o meglio sul quale hanno un po' rinunciato, e sul quale rispetto ad altri suoi concorrenti è meno eclatante, è il processore e le prestazioni. Qui abbiamo un Mediatek Dimensity 7200 Pro, 4 nanometri, prodotto da TMSC, che sulla carta non è nemmeno un malvagio. Il suo problema più grande non sono tanto gli 8 GB di RAM, quanto le memorie che nel mio modello da 128 GB che ho provato, sono di tipo UFS 2.2, praticamente le stesse di un poco MSI Pro da 120-150 euro. Questo è quello che dicono i benchmark, lasciando stare quello che troverete su altre recensioni, o scritto da altre parti, ragazzi, le velocità testate sono quelle di un UFS 2.2, non 3.1, non 4.0, 2.2, quindi non memorie velocissime. Di conseguenza, se dovete fare un utilizzo classico, basico, con tutte le solite app, che il 99% delle persone utilizzano, vanno benissimo. Se non siete fissati nemmeno con le animazioni, probabilmente non ve ne accorgerete nemmeno. Tutto sommato, vi sembrerà un telefono che va bene, che è fluido, e che le app scorrono bene, senza particolari bug o rallentamenti, quindi insomma un telefono che va bene. Ma chiariamoci, a livello di prestazioni, questo non ha nulla a che vedere, per esempio con un poco XI Pro, per dire. Basta vedere i lag evidenti, che si notano, quando si apre l'app a fotocamera, quando si fa partire un video, insomma, in alcune situazioni particolari. Sono tutte cose che vedo io, però, se le vede un'altra persona, tutte queste cose, ripeto, non le nota in modo particolare, le vede mia moglie, non le vede nemmeno, per intenderci, ma io che ci sono un po' fissato, queste cose le noto, le vedo, e non posso che dire, che sono prestazioni da un medio di gamma, che va anche discretamente bene, ma è pur sempre un medio di gamma, e basta. Questo grazie anche al software, che è molto molto affidabile però. Fondamentalmente, il software, guardate, è una skin Android stock, cioè, c'è proprio una personalizzazione, che è minima, un carattere, qualche widget, e i led, come vi ho detto, però, alla fine, comunque, andiamo a Android 14, riceverà, tra maggior update, quattro anni, di patch di sicurezza, gli aggiornamenti, arrivano anche abbastanza rapidamente, d'altro canto, non è che ci devono lavorare, chissà quanto, ora, per dirvi, siamo ad aprile, e abbiamo le patch, appunto, di aprile, qualche altra micro funzione, sperimentale c'è, come per esempio, il supporto alle airpods, con le info sulla batteria, oppure l'avanzamento dei glyph, con alcune applicazioni, ma da noi, beh, avrà poco senso, e poi, non c'è altro, davvero non c'è altro, è più stock di pixel, per intenderci, questo, d'altro canto, è vero, ha alcune cose negative, come, per esempio, se vogliamo altre funzioni particolari, in più qua non le troviamo, però, d'altro canto, non avete app terzi installate, il telefono è pulito, tutto funziona a dovere, Android Auto, così come tutte le varie app, che installerete, insomma, un telefono, che poi, se volete, potete personalizzarvi, se volete tenere pulito, potete seguire la personalizzazione, che vi propone, Nothing, che è basica, ma, insomma, poi lì dipende da voi, ma se volete, potete disegnarvelo, ritagliarvelo su misura, questo, è uno dei suoi punti fondamentali, uno dei motivi, anche per cui è affidabile, e per cui va bene, come è affidabile, in conclusione, poi anche il comparto, delle fotocamere, perché sono fotocamere, che vanno molto, molto bene, un 50 megapixel, sensore principale, con stabilizzazione ottica, 50 la ultra wide, e 32 la frontale, foto che, non sono le migliori, in assoluto, per la fascia di prezzo, ma sono decisamente ok, soprattutto di giorno, devo dire che, è un comparto, che ho apprezzato, la principale, l'ultra wide, lavorano, con la stessa taratura, dei colori, sono ben calibrate, non esasperano, con la sottrazione, la messa a fuoco, non soffre, mai in nessuna situazione, almeno con la principale, non c'è problema, di lens flare, quindi, un bel comparto fotocamero, con, un bel risultato finale, fondamentalmente, chiaramente, sono sensori, che vanno in crisi, con scarsa luce, di notte, ma, ragazzi, su questo, non ci piove, non potete pretendere, tanto di più, da un telefono, di questa fascia di prezzo, quindi, accettabile, ripeto, per la sua fascia, molto bene, poi, anche la selfie camera, con un bel effetto scontornatura, ci sono diverse aberrazioni, ma, ripeto, è accettabile, soprattutto, in conclusione, è molto buono, il risultato finale, come è molto buono il risultato finale, anche per quanto riguarda, i video, video, che, si possono riprendere, in 4k, a 30 fps, con la fotocamera principale, ma trovo, ben sensato, e ben calibrato, il fatto che abbiamo, una serie di opzioni interessanti, come per esempio, c'è il full hd, a 60 fps, con la principale, e anche con la frontale, se volete, tutte queste risoluzioni, sono ben stabilizzate, ma, se volete, potete, per esempio, riprendere anche in hdr, livello limita al full hd, a 30 fps, ma, per esempio, c'è l'opzione, e l'apprezzo questa cosa, quindi, in tutte queste situazioni, devo dire, che è un telefono, che mi ha soddisfatto, anche, in questo senso, per le riprese video, quindi, in conclusione, cosa dire, di questo nothing 2a, beh, che ho meno, meno, molte meno critiche, rispetto ai suoi, diciamo, telefoni precedenti, perché, per la fascia di prezzo, e per quello che offre, è un telefono sensato, che, soprattutto, va molto, molto bene, è affidabile, non ha bug importanti, non ha, diciamo, problemi significativi, che rovinano, l'esperienza di utilizzo, che rimane molto, molto buona, e quindi, un telefono, che posso consigliare, tranquillamente, meglio, se trovato, a meno di 300 euro, proprio, per, una mancanza, ecco, di prestazioni, di affidabilità, secondo me, che c'è, su altri prodotti, quindi, bello, equilibrato, tutto sommato, bello, no, non è tanto bello, insomma, questo, comparto polifemico, mi piace, molto poco, però, insomma, spero che questo mio racconto, vi sia piaciuto, se vi va, adesso, potete lasciare un like, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo, ad un prossimo video, un saluto, da Daniele Pintus.